Vi invitiamo caldamente a sostenere il nostro canale iscrivendovi, mettendo un mi piace al video e attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Vi chiediamo di dedicare qualche minuto in più per guardare il video fino in fondo e ottenere tutte le informazioni. Un mistero avvolge il principe Harry, con voci che suggeriscono che abbia appreso dai media del ricovero del padre re Carlo I e dell'operazione della cognata Kate Middleton. Il sovrano si appresta a un intervento alla prostata la prossima settimana, mentre Kate ha subito un intervento all'addome, ma i dettagli sono rimasti privati. Secondo alcune fonti britanniche, Harry non è stato coinvolto direttamente nelle comunicazioni da Buckingham Palace riguardo alla salute della famiglia reale. Tuttavia, a corte, queste affermazioni vengono negate, sostenendo di aver cercato di avvertire tutti i membri importanti della famiglia reale, inclusi Harry. Alcune fonti indicano che gli sforzi per contattare la residenza di Harry e Meghan in California potrebbero non essere stati sufficientemente incisivi. Il Daily Telegraph ha riportato che Harry ha mantenuto un profilo basso evitando di commentare pubblicamente la situazione. La mancanza di comunicazione diretta da Buckingham Palace potrebbe aver contribuito al silenzio del principe. Nel frattempo, le condizioni di Kate Middleton rimangono incerte, con una nota da Kensington Palace che conferma l'intervento all'addome senza ulteriori dettagli. Alcune indiscrezioni suggeriscono che possa trattarsi di diverticolite acuta, un'infiammazione del diverticolo con eventuali perforazioni. Il professor Maurizio Vecchi, docente di gastroenterologia all'Università Statale di Milano, ha spiegato che la diverticolite acuta si manifesta con dolori addominali intensi, di solito localizzati nella parte bassa del colon. Desideriamo conoscere la vostra opinione su questa vicenda, quindi lasciate un like e condividete il vostro parere nei commenti. Grazie per averci seguito, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, è importante per noi mantenervi sempre aggiornati.